Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano l'insediamento alla Compagnia dei Carabinieri di Eboli del nuovo comandante Emanuele Tanzilli, giovane ma esperto nella lotta al Covid perché viene da una permanenza nella provincia di Bergamo. Può certamente definirsi un benvenuto al sud Emanuele Tanzilli, 30 anni, originario di Roma, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Eboli. Il nuovo comandante arriva nella Piana del Sele al posto di Luca Giminale dopo esperienze professionali compiute al momento soltanto al di sopra del Po come ha confessato lui stesso in una conferenza stampa questa mattina presso il comando di Eboli. Scuola da ufficiale, laurea in giurisprudenza da due giorni ad Eboli dopo una lunga permanenza a Bergamo e per sette mesi alla guida di un piccolo comando dell'arma in montagna che gli ha consentito di fare esperienza soprattutto nella lotta alla microcriminalità e alla prostituzione ma anche nella recente battaglia sanitaria contro il Covid. Assolutamente contento e soddisfatto dell'occasione che mi è stata data. Faremo del nostro meglio in quanto carabinieri come vicinanza alla popolazione e come servizio per il territorio. Tenteremo naturalmente di fare del nostro meglio e sono sicuro che lavorando tutti insieme ci riusciremo. Che tipo di conoscenze ha su questo territorio? Quanto meno che idea ne ha? Come prima impressione è un'idea assolutamente positiva al momento. È ancora presto per me per dirlo in quanto non conosco molto la regione o comunque la provincia. Avrò tempo e modo nei prossimi anni di conoscerla e spero veramente di ambientarmi il prima possibile. La microcriminalità comunque è un tipo di criminalità che deve essere fronteggiata e il nostro modo di operare deve essere attagliato al tipo di microcriminalità. Quindi questa è una cosa che analizzeremo con il tempo e vedremo di migliorare la situazione. Quattro registrazioni. L'importante è avere, come si dice sempre, gli uomini giusti al posto giusto. Quindi anche se siamo in pochi sono sicuro che riusciremo a garantire la sicurezza della popolazione. È un periodo anche particolare, elezioni amministrative oltre quelle regionali, alle prese anche con il Covid, insomma un po' la spaventa tutto questo. Provenendo da Bergamo ormai il Covid non mi preoccupa più di tanto, in cui la situazione è stata un pochino particolare. Quindi sono sicuro che riusciremo a passare anche questo momento. Continuiamo con la cronaca perché invece a Salerno la polizia ha arrestato un presunto spacciatore di crack nell'ambito di una apposita operazione di contrasto al narcotraffico. La squadra mobile ha effettuato diversi servizi di osservazione nelle strade vicine al parco del mercatello, arrivando a seguire un salernitano già noto alle forze dell'ordine che è stato bloccato mentre cedeva una dose di droga ad un assuntore proprio in prossimità del parco giochi. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare lo stesso è stato trovato in possesso di oltre due grammi di sostanza del tipo crack. L'autorità giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Entriamo ora nell'avvivo di quella che è la gestione dell'emergenza Covid. Ieri pomeriggio il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza che impone a tutto il personale della scuola di sottoporsi al test sierologico e o al tampone. Mentre bisognerà ancora attendere per capire come si organizzerà il settore trasporti, è stato rinviato l'incontro in programma oggi presso la prefettura tra i vertici delle ditte del settore e i sindacati, la scuola riparte con regole precise. Tamponi obbligatori per il personale docente e non docente delle scuole campane. Lo ha stabilito con l'ordinanza numero 70 il governatore Vincenzo De Luca. Il personale scolastico avrà, ove residente in campagna, l'obbligo di segnalarsi al proprio medico, ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell'Asa di Appartenenza, al fine di sottoporsi al test sierologico e al tampone e di esibire i relativi esiti al proprio dirigente scolastico che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero per le scuole paritarie al datore di lavoro. Ove residente in regioni diverse dalla campagna avrà l'obbligo di segnalarsi al proprio dirigente scolastico, ovvero per le scuole paritarie al datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e o al tampone a cura del servizio sanitario regionale. Le disposizioni in questione non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio dirigente scolastico o datore di lavoro di aver effettuato anche su base volontaria test sierologico e o tampone di agnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito negativo. Ai dirigenti scolastici, ovvero per le scuole paritarie ai datori di lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alle ASL di riferimento alla scuola i nominativi dei soggetti da sottoporre a screen e di verificare antecedentemente all'avvio dell'anno scolastico che tutto il personale vi sia stato sottoposto, segnalando all'ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati. È demandata alle ASL della regione campagna ogni iniziativa e attività, anche con il supporto necessario dell'Istituto Zooprofitattico Sperimentale per il mezzogiorno, volta all'esplettamento delle attività di screening di cui è il presente provvedimento, con ogni sollecitudine e ogni caso in tempo utile alle aperture delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020. Da oggi dunque test sierologici obbligatori per tutto il personale scolastico entro il 24 settembre, la data che è stata fissata per l'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo condiviso la necessità di rendere obbligatori i test per tutto il personale, ha dichiarato il segretario della CGL regionale, Nicola Ricci, la scuola deve ripartire ma in sicurezza. Il sindacato ha aggiunto di ripetere gli screening durante l'arco dell'anno scolastico per verificare l'andamento del virus e prevenire futuri contagi. Intanto l'emergenza Covid ma anche quella che riguarda gli incendi entrano nel vivo della campagna elettorale che si riscalda e prevede domani l'arrivo a Salerno anche del segretario nazionale del PD, Nicola Zingaretti. È in programma domani alle 17.30 a Salerno presso il Teatro Augusteo in Piazza Mendola l'incontro al quale parteciperà il segretario nazionale del PD, Nicola Zingaretti. Il segretario sarà a fianco del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca in un tour previsto nell'ambito della campagna elettorale che vede De Luca candidato alla presidenza della regione Campania sostenuto naturalmente anche dal Partito Democratico. Il futuro è già cominciato, il tema scelto per l'incontro che come fa sapere la segreteria provinciale del PD avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid. Ma intanto proprio sul contagio legato al coronavirus da Salerno Stefano Caldoro candidato per la coalizione di centrodestra alla presidenza della regione Campania sferra l'ennesimo duro attacco al presidente oscente De Luca mente otto giorni fa aveva annunciato che saremmo usciti dall'emergenza. Otto giorni fa l'attuale presidente della regione ha dichiarato al mondo con una grande tervista nel quale ha detto otto giorni otto giorni e l'emergenza sarà finita sono passati otto giorni e l'emergenza aumenta i casi aumentano l'altro ieri primi in Italia per contagio cioè De Luca è il presidente più contagiato d'Italia non noi e noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e De Luca è la sua politica è la politica che sbagli e dà mezzogna insomma come direbbe come direbbe il suo amico De Laurentiis che lo definirebbe Maria da Romaresca che sono amici un vero cazzaro quello che dicono i romani Big in campo intanto anche per il Movimento 5 Stelle il ministro del lavoro Nunzia Catalfo in giro in alcuni comuni della campagna oggi al fianco della candidata alla presidenza Valeria Ciarambino si concentra invece sull'emergenza incendi Luca Saltalamacchia attraverso il Movimento Terra ha presentato una proposta per riorganizzare la prevenzione coinvolgendo pubblico e privato ed intanto nella campagna elettorale è entrata anche la vicenda dell'inchiesta che coinvolge il presidente della regione campagna oscente Vincenzo De Luca e quattro vigili urbani in difesa dei quali per oggi si registra la dura presa di posizione dei sindacati che dicono ingiustamente i quattro vigili sono finiti nella gogna mediatica rivolta ad attaccare politicamente il presidente De Luca Dopo il polverone mediatico sollevato dall'inchiesta della Procura di Napoli e della Corte dei Conti che coinvolge il presidente della giunta regionale della campagna Vincenzo De Luca e quattro vigili urbani di Salerno promossi nello staff del governatore insorgono i sindacati a difesa dei quattro lavoratori ingiustamente finiti nell'agonia mediatica con tanto di nome e cognome pubblicati ovunque i lavoratori vanno rispettati sempre e comunque in particolar modo dipendenti pubblici che hanno responsabilità importanti e devono essere tutelati se fanno il proprio lavoro con onestà e professionalità dice la UIL Funzione pubblica non si può sbattere il mostro in prima pagina perché fa tendenza la figura del fannullone le decisioni politiche sono un'altra cosa a determinare eventuali responsabilità ci penserà la magistratura dice il sindacato ora c'è solo un dato di fatto quattro agenti della municipale di Salerno sono finiti sui giornali senza aver ricevuto neanche un avviso di garanzia ingiusto anche per la CSA infierire sui quattro dipendenti che hanno la colpa di aver accettato un incarico fiduciario con relativo aumento di stipendio ha detto Angelo Rispoli segretario provinciale del sindacato l'aumento di stipendio è temporaneo vista la natura della nomina quello che resterà sono i nomi dei colleghi finiti su diverse edizioni online e cartacee di testate giornalistiche una gogna di cui potevamo fare a meno poiché i quattro agenti in questa inchiesta sono solo stati ascoltati per sommarie informazioni testimoniali se il bersaglio e la politica stavolta sono stati colpiti dei lavoratori ecco perché Rispoli ha chiesto a tutti i candidati alle elezioni regionali di abbassare i toni fino al termine di questa campagna elettorale la magistratura poi saprà fare il suo compito evitiamo processi a persone che non sono nemmeno indagate intanto difende l'ufficio politiche sociali dagli attacchi anche in questo caso un po' strumentali ricevuti la sindaco di Rocca Piemonte Carmine Pagano dopo la vicenda della neonata morta la misura è colma non permetto a nessuno di speculare su argomenti e fatti relativi al sociale sul cui non ci si è degnati mai di preoccuparsi né politicamente né anche umanamente bisogna essere cittadini a tutto tondo responsabili e presenti nella vita sociale di una comunità sempre al di là del ruolo che si occupa e non soltanto per cercare di portare acqua al proprio mulino sfruttando momenti difficili oppure eventi drammatici come quello purtroppo avvenuto la scorsa settimana lo ha detto il sindaco di Rocca Piemonte Carmine Pagano riferendosi ad alcuni comunicati di esponenti politici locali sulla tragedia della neonata uccisa non accetto da persone incompetenti in materia alcuno appunto ha continuato Pagano perché da sindaco e prima da semplice medico e cittadino di Rocca Piemonte mi sono impegnato e mi impegno ogni giorno per migliorare la condizione di vivibilità della città sul tema delle politiche sociali e poi chi chiede maggiore impegno non sa che Rocca Piemonte è stata sede delle ultime ed importanti riunioni del piano di zona territoriale che comprende anche i comuni di Nocera Inferiore Nocera Superiore e Cassers San Giorgio e con cui collaboriamo da tre anni con ottimi risultati piano di zona che tra l'altro nulla a che vedere con la vicenda della piccola Maria inoltre ha precisato il sindaco Pagano dal primo giorno della mia attività sindacale abbiamo affrontato tutte le vicende inerenti famiglie disagiate e bisognose presenti sul territorio seguendo ogni caso singolarmente fornendo supporto ad ogni ora di tutti i giorni non lasciando nessuno da solo e dando piena disponibilità l'encomeabile lavoro dei dipendenti dell'ufficio politiche sociali del comune e del consigliere comunale delegato e aggiungo quello di tutti i componenti dell'amministrazione dell'ente non può essere messo minimamente in discussione non lo permetto ha sottolineato Pagano l'attuale amministrazione si è trovata ad affrontare in appena tre anni numerosi problemi molti di questi risolti ed altri in via di risoluzione penso al periodo più complicato della pandemia causata dal coronavirus durante il quale abbiamo mostrato una compattezza ed una sinergia che hanno contribuito a fornire sostegno continuo ai meno ambienti e in generale a tutti i cittadini di Rocca Piemonte chiedo a chi parla a Vambera o scrive Fandonie di evitare determinati commenti perché è facile svegliarsi dopo anni di assenza senza conoscere le problematiche di Rocca Piemonte mentre gli altri come noi hanno lavorato e lavorano senza sosta solo per i beni della città abbiamo già accennato all'emergenza incendi questa mattina in località Giovi Casa D'Amato il gruppo volontari della protezione civile di Salerno ha notato un principio di incendio e dopo un primo intervento di contenimento grazie all'ausilio dei vigili del fuoco il focolaio è stato domato continua invece a bruciare la costiera amalfitana diversi interventi in corso anche oggi sono giorni di fine estate purtroppo di fuoco sui colli del Salernitano a patire i danni delle fiamme c'è anche la costiera amalfitana nel primo pomeriggio di ieri martedì 8 settembre infatti è divampato un importante ruogo presumibilmente doloso sulle montagne di Maiori in una zona già interessata nei giorni scorsi da un incendio le fiamme divampate in località Abazia si sono rapidamente diffuse sul posto sono accorsi i vigili del fuoco i carabinieri di Maiori e volontari della protezione civile non è mancata qualche polemica per l'intervento tardivo dei mezzi aerei giunti sul posto solo dopo le 19.30 in precedenza pare che non fossero disponibili in quanto impegnati a fare fronte alle numerose richieste provenienti da tutta la regione le operazioni per arginare il devastante cammino delle fiamme sono proseguite questa mattina quando un ulteriore ruogo è scoppiato anche in località vocatella di Cava dei Tirreni dove sono prontamente giunti i vigili del fuoco per avviare le operazioni di spegnimento nella città metelliana proprio per far fronte al doloroso fenomeno degli incendi ormai da qualche mese è attivo il servizio antincendio che coordinato da Palazzo di Città ha già consentito in più occasioni di individuare tempestivamente le fiamme e sventare per tempo la minaccia grazie all'impegno dei volontari della protezione civile comunale e di diverse realtà associative metelliane che presidiano quotidianamente i punti di avvistamento di Monte Finestra e del castello di Santa Diotore non c'entra invece con l'emergenza incendi l'intervento che è stato effettuato questa mattina in un sottotetto a Sala Consilina incendi a Sala Consilina in fiamme un sottotetto di un'abitazione situa al secondo piano con due persone presenti sul posto al momento in cui si sono scatenate le fiamme immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che giunti sul posto hanno provveduto a domare l'incendio oltre che gli agenti della Polizia Municipale ed il personale ANTA presenti sul luogo anche per tutelare l'incolumità delle persone e consentire l'intervento dei caschi rossi in tutta sicurezza l'abitazione interessata dalle fiamme infatti è ubicata in località Valle Mauro quindi in pieno centro abitato della parte storica di Sala Consilina secondo quanto emerge pare che il rogo sia partito nel corso di lavori di coibentazione del tetto dell'abitazione di proprietà di un medico dove era presente anche uno studio durante le operazioni sarebbero poi partite le fiamme che in breve tempo hanno invaso l'intero tetto distruggendo anche lo studio del medico un lavoro complicato per gli uomini del capo squadra esperto Eugenio Siena che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme dato che il sottotetto era composto di materiale facilmente infiammabile e il rogo si è immediatamente sviluppato invadendo l'intero spazio abitativo due persone sono rimaste ferite anche se in maniera lieve e per loro si è reso necessario il ricorso ai sanitari del 118 sono state necessarie diverse ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco salesi per poter avere ragione dell'incendio e poter mettere in sicurezza la vasta area coinvolta fiamme che hanno provocato numerosi danni all'abitazione distruggendo anche materiale presente nel sottotetto e nello studio del medico sono ora in corso accertamenti per ricostruire la causa dell'incendio ed individuare eventuali responsabilità pare infatti che l'incendio sia divampato durante le operazioni di coibentazione del tetto che venivano eseguite utilizzando guaine catramate per l'isolamento domani alle 11 il covid non ha fermato la solidarietà i partner del progetto bella sempre si incontreranno perché finalmente il risultato ricercato attraverso diverse iniziative di beneficenza è stato raggiunto Paxman Scalp Coler il casco refrigerante che riduce la caduta dei capelli alle pazienti sottoposte a sedute chemioterapiche è stato appena consegnato all'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e domani quanti hanno contribuito alla conquista di questo traguardo in una conferenza stampa spiegheranno i dettagli la conferenza si terrà alle 11 presso la fondazione della comunità salernitana bene adesso andiamo ad Agropoli dove nell'ambito della riorganizzazione del mondo della scuola le prese con l'emergenza sanitaria e per trovare una soluzione al contagio viene soppressa un'aula scatenando polemiche e proteste un'aula della scuola materna del primo circolo didattico Gino Landolfi di Agropoli è stata soppressa da 6 si passerà 5 sezioni in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza covid dove tutti gli istituti scolastici italiani in vista della riapertura delle scuole prevista per il prossimo 24 settembre fanno richiesta di incremento di organico e studiano soluzioni plausibili per evitare le cosiddette classi pollaio l'ufficio scolastico provinciale di Salerno ha pensato bene di sopprimere una sezione all'interno dell'asilo agropolese a fronte di questa situazione dichiara la dirigente scolastica Margherita Baldi siamo costretti a chiedere un organico speciale covid la questione della scuola dell'infanzia del plesso dell'infanzia centro è esemplare di aspetti disfunzionali chiaramente disfunzionali del sistema scolastico italiano perché sia in tempi normali ma ancora di più in tempi di emergenza sarebbe stato opportuno se non necessario garantire un numero di alunni inferiore per classe e quindi avrebbero dovuto consentirci di mantenere queste sei sezioni perché in sei sezioni chiaramente il numero degli alunni è più ridotto invece c'è stata soppressa una sezione quindi questa soppressione chiaramente ha fatto lievitare il numero degli alunni per sezione però a fronte di questa operazione noi in questo momento per l'emergenza siamo comunque costretti a chiedere un organico straordinario un organico speciale covid che ci consenta di dimezzare o comunque di gestire dei gruppi all'interno di queste sezioni insomma ripeto questo questo evento è davvero molto grave e ci fa capire come a volte insomma a monte dall'alto a livello ministeriale o a livello dell'ufficio scossico regionale o anche provinciale non ci siano scelte insomma ponderate che possano garantire un'efficacia dell'azione didattica degli interventi didattici di fronte ai quali noi abbiamo diciamo scarsi se non se non alcuno strumento dico noi a livello scolastico ed ora spazio alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti grazie doppio appuntamento al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno dove quest'oggi è in programma il film di animazione della Walt Disney On World oltre la magia alle ore 18 alle 20 e 30 e alle 22 alla pellicola The New Mutants ingresso intero a 7 euro ridotto 5 euro il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro per informazioni 089 2204 89 andiamo ti divertirai te lo prometto e allora il momento delle previsioni del tempo e poi subito dopo spazio allo sport il giovedì unico Ristorante e pizzeria Eureka I sapori del mare Previsioni per domani Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni In montagna, bel tempo con cieli sereni Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni In montagna, schiarite alternate a nubi sparse Previsioni del tempo Fornite da 3B Meteo Eccoci con la parte del nostro TG dedicata All'informazione sportiva C'è la Salernitana naturalmente in primo piano Che resta in sospeso Tra un presente che non fa sorridere Ed un futuro senza certezze I tifosi sono in fermento Ed hanno avviato azioni forti Per portare all'attenzione nazionale Il problema multiproprietà Sullo sfondo si registrano manovre ad ampio raggio Per affiondarsi su una preda che fa sempre gola E intanto anche il direttivo oltra Si schiera accanto alla generazione Donato Vestuti E ribadisce il suo no alla multiproprietà Siamo alle solite Con l'approssimarsi della tornata elettorale Uno dei cavalli di battaglia dei politici È la Salernitana Dimenticata e trascurata negli ultimi anni Lasciata in balia degli eventi E dei voleri di una proprietà lontane da un'affettiva Nonché alla merced di una dirigenza Che ha pensato bene di dividere la piazza Ed ora improvvisamente è finita al centro dei discorsi C'è chi va in missione esplorativa presso i tifosi Chi ritrova ad un tratto la voce Si schiera contro la multiproprietà Dopo aver ignorato per tanto o troppo tempo Le esigenze e le rimostranze di quella parte della tifoseria Che si è sentita rivolgere dai patroni Al di essere da altri soggetti Gli epiteti peggiori Per il solo fatto di aver mostrato orgoglio Senso d'appartenenza Preoccupazione per le sorti dell'amata casacca Granata Ora che la generazione Donato Vestuti Ha intrapreso la via più diretta Per portare all'attenzione generale La questione multiproprietà Si registrano interessamenti Interventi, diretti e non Di politici ed affini Di tessitori di tele Che fino a ieri erano ben saldi Sul carro del direttore dei patron Verrebbe da chiedere a Costoro Dove siano stati in tutti questi anni Specialmente negli ultimi cinque Quando, una volta raggiunta la promozione in serie B La Satoritana è stata parcheggiata In un limbo Fatto di amarezze e delusioni Relegata ai margini dell'impero Al pari di una colonia ridotta all'obbedienza Da sfruttare Da mungere il più possibile Con la compiacenza di alcuni indigeni Che ora si sono destati dal sonno E che chiedono lumi e chiarezza Invocando una sterzata Nella campagna acquisti Come se bastassero un paio di calciatori Di medio valore Per cancellare offese Omissioni e amarezze Che la Satoritana e i suoi tifosi Hanno dovuto subire Ingoiare Senza poter nemmeno fiatare Perché c'era chi in loco Urlava su pubblica piazza Contro chi osava sollevare i dubbi Sull'operata e sulle prospettive Di una società Che ha ritenuto conclusa La sua missione sportiva Con la promozione in B E che da cinque anni a questa parte Porta avanti un progetto Che non ha nulla di tecnico La Satoritana viene usata Per valorizzare i calciatori della Lazio E ricompensata per questo Con generose plusvalenze Come fossero elargizioni Il padrone Nei confronti della plebe Non c'è futuro Così specie Se nel progetto che non c'è Continuerà ad avere un ruolo centrale Il DS Angelo Fabiani Che alcuni vedrebbero bene Nei panni non più di semplice Dirigente dipendente Bensì di presidente facente funzioni Da tempo passa di bocca in bocca Con l'approvazione pari Dei sui accoliti più devoti L'idea che la questione multiproprietà Andrebbe aggirata in questo modo Si ricorderà come qualche mese fa Si fece passare come attuabile Pienamente legale L'idea di un trust In cui far confluire la proprietà del club Operazione ampiamente bocciata Da chi ha un minimo di conoscenza Della materia di cui si discute Anche in quel caso C'era chi indicava in Fabiani La figura giusta A cui attribuire Deleghe e poteri Ora che in città Il malcontento Ha toccato trasversalmente Tutte le anime del tifo Ora che la proprietà romana Non è più ben vista C'è ancora chi distingue Prova a fare opera Ad inutile e vanno salvataggio Perché se lo titolo e mezzeroma Hanno deluso e stancato Vanno rimarcate anche Le responsabilità del DS Plenipotenziario Che agito ed agisce In nome per conto dei patroni Che se fosse stato contrario Al loro modo di trattare La cosa granata Avrebbe potuto dimettersi Con uno scatto Di orgoglio e dignità Che non c'è stato Orgoglio e dignità Che la piazza vuole riportare Al centro del villaggio Stanca di continue mortificazioni Anche sotto forma di rifiuti O di tira e molla Che vedono in questi giorni I protagonisti I calciatori appena appena decenti Che solo 20 anni fa Non si sarebbero nemmeno spogliati Passateci il termine Con i vari rivai Se Salerno non è più una piazza Che fa gola ai calciatori La colpa non è certamente Dei tifosi Anche questa è una dimostrazione Ulteriore del fallimento Della proprietà E della dirigenza Che continuano a tacere Se la sanità Non fa più gola ai calciatori Resta invece preda Succulenta Per chi vuole speculare Ed anche su questo Occorrerà vigilare Dopo le elezioni Ma solo dopo Sarà importante Che anche la politica Prenda una posizione netta Ma ora il silenzio è d'oro Se ci sono imprenditori Interessati O che potrebbero essere sollecitati Questo lo si vedrà Nelle prossime settimane Sempre a patto Che l'attuale proprietà Voglia passare la mano Di certo Quello a cui stiamo assistendo Non è Almeno stando ai fatti Un rilancio Da parte della triade romana Che vuole allestire Una rosa fatta Quasi esclusivamente Di prestiti Senza aver cura Di rimpolpare E migliorare Il proprio parco calciatori Intanto Nella giornata Dei calendari Continuano a tenere Banco Le voci di mercato Su Gennaro Tutino Protagonista Non più Di una trattativa Ma di una vera e propria Telenovela Dai connotati Della farsa La trattativa infinita Tra Gennaro Tutino Il Napoli Il Bari E la Salernitana Sta assumendo I contorni Di una farsa Il calciatore Ex Cosenza Ed Empoli Ha mostrato Più di qualche Perplessità In merito All'ipotesi Salernitana Oltre alle ambizioni E agli obiettivi Del club Granata Ci sarebbero Anche altri aspetti Come ha fatto trapelare Il presidente del Pescara Sebastiani In Lizza Come in Lecce Per assicurarsi I servigi Di un calciatore Che ha segnato 10 gol col Cosenza E 4 con l'Empoli Nelle sue ultime esperienze In Serie B Sebastiani Ha parlato anche Di motivi di Campanile In riferimento Alle origini Tutino E dalla rivalità Tra Napoli e Salerno Non sappiamo Se la sua Sia solo un'ipotesi Di certo La storia È piena Di calciatori napoletani Che sono stati I protagonisti A Salerno Resta il fatto Al di là di questo Aspetto di Campanile Che questa trattativa Ha portato via Fin troppo tempo Alla Salernitana E non vorremmo Che il club Granata Perdesse di vista Altri obiettivi Per andare dietro a Tutino Anche per chi a calcio Si gioca in 11 Anzi in 22 ormai E dunque C'è un intero organico Da allestire Nel famoso pacchetto Tutino Rientrerebbero anche Altri calciatori Due dei quali Palmiero e Schiavone Renderebbero superflua La conferma in grata Di Zizek Che ieri Ha segnato un gol pesante Con la sua nazionale Nella sfida con la Russia Intanto Una trattativa Pare essere andata in porto Ed è quella Per il difensore Ranieri Ingaggiato In prestito Dalla Fiorentina Serve ancora tanto Alla squadra di Castori Per poter essere competitiva E tra poco più Di 15 giorni Si comincia Bene Termina qui Il nostro appuntamento Con l'informazione Grazie per essere stati con noi Arrivederci Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it E clicca su TV Oggi On Demand Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Corri 진 concentrate